Sicuramente l'occasione clamorosa c'è stata e lì è mancata la cattiveria, perché al di là del fatto che devi aspettartela una palla del genere, nel senso che è stato poco reattivo in quella situazione, ma lo so anche lui. È un peccato perché già sul tiro dovevi aspettarti che quella palla o va dentro o se no te la devi aspettare. Senza farla rimbalzare magari arrivi prima e riesci a fare gol. Tulli ha fatto una buona partita. Ripeto, non è che ho sorpreso, giocando magari con due attaccanti è quello che ha più caratteristiche di attaccanti, che poi lo faceva anche con Asta prima. Quindi era quello che uno si aspettava da lui, perché lui ci deve dare una grossa mano. Adesso dobbiamo cercare di cambiare qualcosa lì davanti, di cambiare, ma non come uomini, ma magari cambiare anche come atteggiamento. Magari giocare anche con lui e due punte. Lui trequartista e due punte. Per cercare di essere più incisivo. Sì, devo essere sincero, non è che abbiamo fatto male. Il primo tempo soprattutto abbiamo fatto abbastanza bene contro una squadra che si è difesa e ti veniva a pressare sotto tutti i punti di vista. Non era semplice. Poi lo sapevamo che prima della partita incontrare l'Albino Leffe non è una gatta da pelare semplice. Per fisicità, per intensità, per cattiveria. Anche giocatori che sanno far salire la squadra, sanno far respirare la squadra. Giocatori esperti. Però diciamo che non gli abbiamo concesso niente. Loro non ci hanno messo mai in grossa difficoltà. Secondo me, noi abbiamo creato quelle due o tre situazioni dove potevamo fargli male. Sicuramente dobbiamo migliorare la fase offensiva. Adesso bisogna capire come migliorare. Il mio stato natimo è quello di dispiacere. Dispiaciuto per il fatto che non si riesce a vincere in casa. Però sapevamo che la partita era una partita difficile. Lo stato natimo è uno di quelli che vuole combattere fino alla fine. e cercare di salvarci il prima possibile. Sicuramente sarà una battaglia dura. Perché poi abbiamo visto che tutte le partite sono intense, cattive. E dobbiamo migliorare qualcosa sotto l'aspetto offensivo. Però abbiamo recuperato molti punti sul gubbio, se non mi sbaglio. Il gubbio adesso è sotto di noi. Certo, questo non è che ci gratifica. Però dobbiamo continuare su questa strada e migliorare quelle che sono le nostre lacune. E bisogna vincere una partita fuori casa. Speriamo prima possibile. Ma paradossalmente per noi in questo momento forse è meglio giocare fuori che in casa.